MULAN GENUA 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 MULAN CENUA TAMUAN GENUA MULAN GENUA MULAN GENUA MULAN GENUA per Rebic, Rebic per Teo in fascia, Teo per Salemakers in aria, Salemakers si gira, Salemakers prova il tiro a giro, ah, l'ho vista dentro, deviata, calcio d'angolo, mamma mia Salemakers tanta roba quando gioca bene, quando fa ste robe qua tanta roba, palla deviata, se no il tiro era promettente, era veramente promettente, calcio d'angolo Milan, ultime occasioni di questo primo tempo per provare a ripassare davanti prima del doppio fischio, calcio d'angolo c'è la no, glu batte, palla dentro, kir di testa anticipato, peccato, esce Perin, bella uscita bravo Perin, bella uscita, mi ha travolto Leao, ma bravissimo, i portieri devono uscire così sicuro, bravo, e finisce qua il primo tempo, Milan 1 Genoa 1, peccato abbiamo fatto il primo tempo noi, però il gol si è riusciti a prenderlo al primo tiro in porta loro, gol di testa su calcio d'angolo, errore in marcatura di Tomori, peccato, l'uomo che ci stava dando più certezze in questo periodo qua, purtroppo perde l'uomo, e destro appoggia la palla in porta però bene, cioè bene, e si parte, inizio il secondo tempo di Milan Genoa, squadre che non hanno fatto nessuna sostituzione, si riparte dal punteggio di 1 a 1, e niente, speriamo bene ragazzi, palla in difesa per il Genoa, spazzano male, palla recuperata da Chessy, Chessy, palla per Ben Nasser, Ben Nasser per Ciala, palla per Kalulu in fascia, la gioca a Salemakers di prima, palla dentro per Kalulu, Kalulu, palla per Rebic, cosa ho sbagliato Rebic? eh no, però questi errori qua no, no ragazzi questi errori qua no ragazzi, bellissima combinazione, Salemakers mette in area Kalulu, Kalulu la gioca a Rebic, Rebic da solo nell'area piccola, la calcia sopra la traversa, Viglione spazza, recuperiamo palla noi però, attenzione, Ciala Noglu, Ciala sulla tre quarti, Ciala, palla dentro per Salemakers, bell'idea, colpo di tacco Ciala Noglu, sopra la traversa, ragazzi, combinazioni belle, Madaline, come fai a calciare così? Colpo di tacco di Salemakers in area, Ciala Noglu vicino all'area piccola, anche lui tira una sbordata sopra la traversa, cio d'angolo Milan, Ciala Noglu, ciala Ciala Noglu, la mette dentro, Kier arriva, mamma mia, palla fuori di pochissima, occasionissima, gliela stavamo per restituire, colpo di testa di Kier che sfiora il palo, peccato, peccato, calcio d'angolo, ancora Ciala, Ciala Noglu, palla dentro per Mandzukic, palla che resta lì, 2 a 1 Milan Penso sia autogol Penso che sia autogol L'ha toccata Manjukic L'ha toccata Manjukic ma si stanno abbracciando Tutti tra di loro quindi penso Penso autogol Fondamentale il tocco di la spizzata Di testa di Manjukic Stanno inquadrando Scamacca Forse Scamacca Forse Scamacca Ha già il contratto col Milan Vediamo Allora vediamo calcio d'angolo Si Scamacca Comunque esatto E' stato Manjukic a dar fastidio 2 a 1 Milan Lavoro bello di Manjukic Scamacca se la mette nella propria porta Palla in fascia Attenzione vicina alla nostra area Bravo Tomori che spazza però Bravo mamma mia come spazzate Ragazzi e niente Palla recuperata dal Genoa Piazza attenzione piazza Bravissimo Dalot bellissimo intervento Palla ancora per il Genoa Mamma che ansia Ah palla che entra in area Palla sul secondo palo Esce Gigio Bravissimo Palla che rimane giù Masiello Kier sulla linea di porta Berrani Tomori sulla linea di porta Ricalcio d'angolo Genoa Porca puttana Bello Tomi No 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 che infarto Attenzione 93esimo scattato in questo momento qui Tienila lì Tienila lì E finisce qua E finisce qua Vittoria importantissima Soffrendo 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 Ma vittoria veramente Non fondamentale Di più E adesso ragazzi Godiamoci Atalanta Juventus Sperando in un pareggio E Napoli Inter Sperando ormai In una vittoria neroazzurra Che ci potrebbe Ci porterebbe così A più sette Dal Napoli Bene così Anche se abbiamo sofferto Grazie